GINMARE 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 è un prodotto spagnolo, nasce a Girona, è una nuova concezione, un nuovo modo di concepire il mondo dei gin. Tra le sue caratteristiche annovera quella di avere 5 botaniche molto particolari, appunto mediterranee, infatti il gin GINMARE viene definito Mediterranean Gin. Tra queste botaniche possiamo annoverare basilico, timo, rosmarino, che sono comunque parte del bacino mediterraneo, oltre alla parte anche agrumata fatta dalle bucce degli agrumi. Poi un'altra botanica che è molto caratterizzante è la presenza di un distillato anche di oliva, olive spagnole, che gli danno un sapore molto particolare. È un prodotto appunto considerato un po' innovativo, esce un po' fuori dai schemi e dai classici cannoni del gin. A mio parere può anche essere bevuto, come dire, da meditazione, un gin da degustazione, oltre che ovviamente miscelato. È consigliato ovviamente in un gin tonic, servito per un balloon con tantissimo ghiaccio e con l'aggiunta di un ramo di rosmarino all'interno per andare a richiamare una delle botaniche che lo caratterizzano. Come tonica da abbinare, il mio consiglio è quello di abbinare una tonica 17-24. Tra le caratteristiche troviamo un chinino sudamericano, quindi un po' più morbido e delicato rispetto ai classici chinini, ed una bolla un po' più delicata e piccola come quella di uno champagne. Quindi molto più delicato per far sì che vengano esaltate in maggior modo le caratteristiche del gin in questione, in questo caso il gin mare.